Mark Marquez è l'emozionante GP di Francia della MotoGP, lo sfogo di Paolo Simoncelli al mondo del motociclismo. Benvenuto in questo video, guarda il video fino alla fine per scoprire cosa che detto il padre di Simoncelli, inoltre iscriviti al canale e facci sapere la tua opinione all'interno dei commenti. Buona visione. Al termine del GP di Francia della MotoGP non sono mancate le polemiche riguardanti la guida aggressiva di Mark Marquez. In difesa del pilota spagnolo, Paolo Simoncelli ha espresso un duro sfogo e ha rivolto un accorato appello al mondo del motociclismo. Il GP della Francia della MotoGP è stato un evento emozionante, in cui Marco Bezzecchi si è laureato vincitore. Tuttavia, tra i grandi protagonisti della giornata, c'era anche Mark Marquez, che tornava in pista dopo un periodo di 45 giorni di stop a causa di un infortunio subito nella prima gara stagionale. Il weekend di Marquez a Le Mans ha avuto un inizio difficile, con una spettacolare caduta soltanto 10 minuti dopo l'inizio delle prime prove libere. Tuttavia, la sua prestazione è andata crescendo nel corso della competizione. Prima un'ottima qualifica, secondo dietro Bagnaia, poi una buona prova nella sprint race conclusa al quinto posto e infine una superba esibizione nella gara della domenica. Nonostante dovesse fare i conti con una Honda con un nuovo telaio, ancora non al livello delle Ducati e probabilmente nemmeno di KTM e Aprilia, Marquez ha mostrato nuovamente il suo lato migliore. È riemerso il vecchio Marquez capace di vincere e dominare otto titoli mondiali. Dopo aver dimostrato la sua classe mettendo in grande difficoltà anche Bezzecchi, che avrebbe poi vinto la corsa, Marquez ha dato vita a un fantastico duello con Jorge Martin per il secondo posto. Purtroppo, a due giri dal termine, la sua corsa è terminata con una caduta. Naturalmente, con il ritorno di Mark Marquez in pista, sono tornate le ormai consuete polemiche riguardo al suo stile di guida aggressivo, che ha fatto infuriare Bagnaia durante le qualifiche. Queste polemiche hanno anche suscitato l'ira di Paolo Simoncelli, team manager del team SIC Mark 58, che corre nel moto mondiale nella categoria Moto 3 e Moto E. Nel suo consueto resoconto del weekend di gara, il padre dell'indimenticato Marco Simoncelli ha espresso un vero e proprio sfogo, stanco delle continue accuse rivolte a Mark Marquez, il quale, secondo lui, rappresenta l'essenza stessa del motociclismo. Spesso si discute di sorpassi troppo azzardati o troppo ravvicinati, quasi al limite dell'assurdità. Voglio farvi una domanda. E se Domenica Marquez fosse stato coinvolto in uno degli incidenti o contatti avvenuti? La cronaca avrebbe minimizzato l'accaduto? La risposta è no, lo avrebbero messo al rogo, ha scritto Paolo Simoncelli, riferendosi agli incidenti tra Bagnaia Vinales e Marini Alex Marquez, avvenuti durante la gara della MotoGP Aleman. Mi sembra assurdo che un ragazzo, dopo 45 giorni di convalescenza, salga su una moto con un telaio mai provato prima, rischiando di ottenere la pole position, strappata solo da un'eccezionale Bagnaia. Eppure siamo ancora qui a discutere. Davvero? A differenza di altri, a Marquez vengono mosse accuse di sorpassi troppo aggressivi e manovre al limite della scorrettezza. Ma i sorpassi, le traiettorie audaci, l'adrenalina e i brividi sono l'essenza del motociclismo. Senza di essi questo sport non esisterebbe, ha proseguito Simoncelli, evidentemente stanco delle continue critiche rivolte a Mark Marquez. La gara di domenica nella MotoGP è stata una delle più spettacolari che abbiamo visto da tempo. Staccate incredibili, sorpassi al limite. Voi lo vogliate o meno? Marquez ha esaltato tutto ciò, trasformandola in una gara davvero campione che ci ha tenuti tutti incollati allo schermo. Questo tipo di pilota è ciò di cui il mondo del motociclismo ha bisogno, in un contesto sportivo in cui il calcio domina. Allora mi chiedo, perché non godersi lo spettacolo che questi ragazzi, pochi al mondo, sono in grado di offrire? Ha concluso Paolo Simoncelli, esaltando lo spettacolo offerto da Mark Marquez nel GP di Francia della MotoGP 2023 e lanciando un appello accorato a tutto il mondo del motociclismo. Ti ringrazio di essere arrivato fino a qui, mi raccomando, lasciaci un mi piace, iscriviti al canale e condividi queste informazioni. Inoltre facci sapere nei commenti la tua opinione. Ciao al prossimo video!